Per me sono stati molto bravi perché hanno difeso l'aria come non hanno mai fatto nel corsa del campionato, sono stati molto più attenti a questa parte del gioco, quindi offensivamente hanno sporcato le nostre percentuali vicino al canestro, hanno mostrato una fisicità vicino al canestro che non gli è appartenuta nel corso della stagione, quindi in questo dettaglio difensivo sono stati bravi e questo ha provocato una mancata continuità nell'uso di quella parte del campo da parte nostra, invece noi difensivamente non siamo stati quelli che siamo stati per tanto tempo, per un po' di tempo che non siamo quelli che siamo stati per tanto tempo, un pochino meno energici, un pochino meno fisici e questo chiaramente alla fine, nel momento in cui la partita si è descesa, è andato tutto a vantaggio di chi ha talento nelle mani e Castello Erci a coach Fissero, quindi questa è stata la sentita di lega. Tu avevi detto che queste partite vengono fuori uomini veri che fanno un passo avanti, in realtà non è vero, è una partita da playoff diversa rispetto alle altre partite qui, l'aspetto emotivo, l'aspetto mentale molto importante, quindi non iniziare bene magari ha un pochino ha fatto perdere fiducia a qualcuno di loro, però poi è stata una partita vera, nel senso non è stata una partita dove loro sempre controllando, sempre rimanendo avanti, sono andate avanti di 20-20 e poi è diventata una barzelletta, è stata una partita vera, a 5-1 della fine eravamo 4, insomma è stata vera da tutti i punti di vista, quindi anche chi magari poi non ha iniziato bene ha cercato nella seconda parte di cambiare un po' la propria partita che secondo me non l'hanno fatto, quindi questo secondo me è un aspetto importante, che siamo entrati nella serie non rinunciando a giocare la prima partita o tenendo a capire come tirava un po' la paria, abbiamo volato una posta partita, non sono stati più bravi di noi, qualcuno di noi non è stato così bravo a coinvolgersi immediatamente, ma non forse la partita secondo me tutti quanti hanno fatto qualcosa di diverso rispetto a quello poco che avevamo fatto nel corso del primo quarto, dove le nostre percentuali sono stati un attacco molto bassi, quindi non sono da come che ha cominciato male, ha finito male, non è così, c'è qualcuno che ha cominciato male, però qualcosa di meno, e questo ci deve servire per avere poi lo sprint, per entrare nella seconda gara che ci serve ancora più. Grazie. Grazie.